Hey guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, il nuovo anno è iniziato, come siete messi a goals? State raggiungendo un po' di obiettivi che vi siete prefissati, il canale Instagram Chiari Lady Boss, è partita una challenge che durerà 12 mesi Una volta al mese io mi porrò un obiettivo che cercherò di raggiungere entro la fine del mese e così ho chiesto di fare anche alla mia audience Ponetevi anche voi un obiettivo e cercate di raggiungerlo entro fine mese, se volete partecipare alla challenge seguitemi su Instagram Oggi non ho come ospite nessun personaggio noto italiano perché ho avuto un paio di ritardi Quindi l'ultima puntata relativa agli ospiti italiani conosciuti in viaggio a New York o di passaggio probabilmente esiterà a febbraio Abbiamo già avuto con noi Marcello Ascani, Soldi Spicci e Carotilla Se non avete ancora visto i video andatele a vedere, vi lascerò anche il link nell'info box Oggi voglio condividere con voi un video che ho creato per le scuole superiori che ho frequentato a Falconara Marittima Io ho fatto il liceo scientifico che insieme a Ragioneria formano l'istituto Cambi Serrani E guess what? Mi hanno chiesto di presentare il nuovo corso di studi per il nuovo anno Che si chiamerà manager delle imprese turistiche e organizzatore di eventi Proprio a me come donna italiana imprenditrice a New York che ha aperto la sua agenzia e il suo brand Quindi ho creato questo video sulla mia attività e i miei lavori Nel canale trovate anche un altro video su che lavoro fa Chiari Lady Boss, è un po' più articolato Anche di questo vi lascio il link nell'info box Buona visione e come abbiamo detto negli ultimi video, linea allo studio New York è Chiara, è creatività, curiosità e personalità Con lei andate nei posti instagrammabili ma non comuni E c'è sotto anche nelle sue foto, le trovate sui canali social Ciao, sono Chiara Di Paola in arte Chiari Lady Boss che è anche il nome del mio brand Nato a New York un anno fa Sono molto felice di condividere con voi la mia esperienza di donna italiana imprenditrice a New York A 25 anni sono arrivata a New York e solo dopo due anni ho aperto la mia agenzia New York City for All Offro servizi turistici e tour personalizzati oltre a corsi in lingua inglese e organizzazioni di matrimoni I miei tour rispondono alle esigenze specifiche del cliente ed il valore aggiunto è l'esperienza personalizzata Nonché la libertà di pianificare il giro all'ultimo minuto Uno dei miei punti di forza è ricercare i luoghi più inusuali per soddisfare le esigenze dei clienti più curiosi Ho anche un blog sul quale parlo di cibo, shopping, intrattenimento e vita americana Io non sono la classica guida con la bandierina Mi sento parte del gruppo e mi diverto insieme a loro Porto i miei clienti nei posti meno toccati dei turisti ma anche in zone classiche e molto conosciute Williamsburg, il bar segreto Pop-ups Rooftops Highline Abbiamo scelto New York City for All come la seconda volta È il nostro secondo viaggio con Chiara per la sua modalità particolare di far vedere la città E perché sa accogliere sempre l'esigenza di ogni cliente Grazie Chiara Abbiamo scelto di nuovo New York City for All Perché Chiara ci fa divertire e ci porta in posti nuovi e colorati Molti dei miei clienti mi hanno conosciuto attraverso Instagram e YouTube Infatti con il mio brand Chiari Lady Boss lavoro come content creator e vlogger L'approccio al turismo è cambiato negli ultimi anni ed i social media sono essenziali per la mia attività È fondamentale per me rimanere costantemente aggiornata Attraverso i miei canali riesco a raggiungere persone diverse e potenziali clienti Amo il mio lavoro sui social per le connessioni che si creano con le persone Vi presento una mia follower diventata poi amica Ciao io sono Gaia, ho trovato Chiara su YouTube, poi l'ha subita su Instagram dove ho partecipato a una sua challenge Così ho avuto il primo contatto con lei Ora sono a New York e da quando mi ha fatto passare una giornata da Chiari Lady Boss non l'ho più lasciata Aspettatevi l'inaspettato Spero che questo video vi sia piaciuto Per oggi è tutto da Chiari Lady Boss a New York Bye guys